Voi per far 6TL andiamo in un altro posto un'altra volta? Va bene, sì, la posso molto Però dove sono le scarpe? Non vi tolore di vedere la sua reazione Ragazzi, visto che il Mini è un artiste che cammina da solo Arrabbiato, oh Mini, è arrabbiata arrabbiata Oh Mini, ascoltami, ascoltami Oh, ascoltami Oh, ascolta, ascolta, ascolta Oh, ti fidi di me stavolta? Sì Ti vado a comprare le scarpe Wallah ti compro le scarpe Wallah Guarda, guarda Dai, andiamo a cambiare le scarpe Sta fai? Sì Le scarpe va bene? Sì Però non ti arrabbiare Non ti arrabbiare Non ti arrabbiare Non abbiamo preso aprici qui Però va bene Ti prendiamo delle scarpe Hotgum, le scendi tu Dove possiamo trovare delle scarpe? Qui No, questi mica vengono le scarpe Adesso ti portiamo e ti compriamo le scarpe fighe Va bene? Queste vanno bene No, piano, piano, non toccate Metti giù Metti giù Ma sei male Ma sei lato Ma ci abbiamo soldi Dovrei correre Ma fra Sono più belle Queste Ti compro queste No 17 Vuoi che ti compro queste? Vuoi che ti compro queste? Te le compro? Andiamo No E queste? Andiamo Perché se io te le compro Ma bambini Questo fa il duro Raga Ma che cavolo Che stai insegnando? Che stai insegnando? Che stai insegnando? Ehi Ti chiedi un bambini Mi discordo Vabbè Bla 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 Eccolo mini Vieni e scendi le scarpe che vuoi Dai Cosa stai insegnando? Cosa stai guardando? Bro c'è anche le tl Bro Ma vuoi le tl? Sì Non so se ce li hanno Dobbiamo chiedere la signora Vedete Dai sì Prova ad andare anche lì là Ora Ho questo Queste qua Ma prima dobbiamo E te che numero metti? Un po' Eh? 33-34 Vabbè le proviamo 33-34 33 o 34? 34 34 Ehi mini le tl qua non ci sono Sono questo Sono bello Scusi ci sono per caso le tl? Vuoi per farsi le tl andiamo in un altro posto un'altra volta? Va bene sì La prossima volta Sicuro? Sì Il bruvoletto di costretti Ce li posto male per le tl 5 Non c'è la tl 5 Non c'è niente E c'è niente oggi Certo la mia casa buona Proviamo andare Dove possiamo andare? Ormai sono le 8 fra Andiamo in quel posto che dici tu? Dove è andato l'altra volta Iunas? Andiamo a vedere quel posto Dai Dai Scocchiamo le dita ragazzi 3-2-1 Fra Perché stai per piangere? Play 5 non c'è Scopi non ci sono Non è che Dai fra Dai 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 Proviamo a vedere qua bro Dai Proviamo a vedere il king Il king fra In teoria ci dovrebbe essere tutto Dai su dai 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 speriamo Al massimo te le ordino su internet Fra va bene Ti compro le tl originale Stavolta Non avrai le tl fake Avrai le tl originale Occhio al palo Questo è un palo Oh fra Tu come devi tenere dietro Che spacchi di più Fra Mamma mia quanto spacchi Dai dai Su 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 Qua hanno detto che non ce li hanno Non facciamo fra Ma è questa fra Un palino Dai fra Questi sono bene Dai Io magari da piccolo Mettiamo queste qua Magari da piccolo Aspetta 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 C'è queste Che sono per bambini Ci sono queste Poi ci sono la versione bianca C'è la versione bianca Ci sono queste nere Ci sono queste azzurre Così Fate così Queste Sì 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 C'è anche una roba che di notte si vedono le luci Ah Allora sì Prendiamo Prendiamo queste Ci vediamo appena arriveranno le scarpe Eccoci qua ragazzi Siamo al quarto giorno Dopo che siamo andati a cercare le scarpe per il mini Siamo andati a fare il casino totale Per trovargli queste scarpe Alla fine le abbiamo ordinate sul sito ufficiale di Nike E lui non sa che il pacco è arrivato Mi sono dovuto nascondere il pacco Proprio qua dentro Eccolo qua Nike Il pacco Mi sono dovuto nascondere Ragazzi Qua intorno Ci sono le scarpe Scusate Ecco qua intorno ci sono le scarpe del mini Guardiamo un po' Guardiamo Wow Wow ragazzi Guardate come sono le scarpe Sono fatte benissimo Sono fatte da lì Chiudiamo tutto Anzi Mi facciamo un troll Stoicando le scarpe E la lasciamo E la lasciamo qua in camera Questo lo chiudiamo Pacco chiuso Adesso Glielo andiamo a dare Non metto l'ora di vedere la sua reazione Oh bello mio Guarda che cosa stai giocando Stai giocando Guarda che cosa stai giocando Accendiamo la luce bro Fammi vedere Vediamo Vediamo lo che ha fatto il mini Poi Poi E' un po' Poi Eh Sto comprando FIFA Della presto Sei diventato pro player Allora Mi raccomando Questo lo devi tenere così Perché dietro C'è la via di casa Non dobbiamo far vedere le cose Ok Questo è il pacco di nice Che è arrivato bro Ok Sai qua cosa ci sono Le scarpe Sai qua cosa ci sono Bravo Questa è l'ipn bro L'ipn bro Piano Piano Allora 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 Ehi Piano Questa te le ha regalate Chi è che te le ha regalate Nike Però se te lo comprate Chi è che te le ha regalate Nike Ok Ascolta Eh Sono arrivati Sì Sono cari Sì Sei felice o non sei felice Sì Sei felice o non sei felice Sì Piano Apri il piano Ascolta Ascolta No no Fermo Fermo Voi pensi che sono Sono belle Brutte Belle Io ce le scelte io Eh Ma quindi Devono essere fighissi Sì Vai 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 Zì 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 Aia Ma non è che c'è un problema Non è che sono No Aspetta c'è un biglietto C'è un biglietto Leggi Eh no Non c'entra niente questo Questa è la roba della vita Aia Dove sono le scarpe Aspetta Ma stai scherzando Le hai presi tu prima Le hai presi tu prima di nascosta Non è vero No Ascolta Mini Io non sto scherzando Le hai presi te No Perché io dovevo Le ho presi il pacco No Giura Ma te me le sono arrivate Fra se stai scherzando Dimmi che stai scherzando Che sto scherzando Fra dove sono le scarpe Fra vuol dire che dobbiamo chiamare Dove c'è il numero qua C'è il numero di telefono Li dobbiamo chiamare Fra Fra che dobbiamo fare Magari il corriere le ha prese Quello che porta i pacchi Le ha prese per dargli al suo figlio Ma io sono Eh ridi Intanto ridi Intanto le scarpe non ci sono Non mica è colpa mia Proviamo a fare il codice QR Ma fra no ormai Tanto che lì c'è la roba di casa Eh ci ha scritto qualcosa lì? No Sono mie Vabbè tanto te le riporto Ma io per favore Devi aspettare una settimana Gomma Gomma Aspetta qua Eh laszò Eh laszò Come sono? Ti piace no? Eh piano piano Ma lo sai che queste sono appena uscite? Grazie Guarda Quelle nuove Guarda che scarpe No ma quelle sono quelle appena uscite Guarda Guarda Questa vi cagli Ho la sua La sua Perché non le hai mai indossate Fra Guarda che fighe Che fighe Guarda Perché puzzano Mi sa che lei è indossato il figlio del corriere Dai che lei è indossato il figlio del corriere Frans Ambrosa Come sono queste tl? Oh queste Per fortuna che ho sentito queste Perché sono queste sono appena uscite Ti ho fatto spenderle troppo Lo so Eh Lo sai Lo sai Lo sai Guarda la palla Oh Vai indossare Vediamo come si sta Ah no c'è i calzini classi Passa Allora adesso sai cosa fai? Adesso vieni qui Vieni qui Vai qui Tai dritto Facciamo la transizione Che hai l'outfit PSG E le scappette 3 2 1 Vale Guarda qua Wow Fammi un paletto No no Già le rompi Fammi un paletto Eeeh 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 Ti piace no? Sì A posto? A posto? Mamma mia Fammi fare Un film Mamma mia Però guarda lì Guarda lì Guarda lì Guarda che squalo Mamma mia Che squalo A posto bro Se costi soddisfatto? Sì Dai chiudi il video Dai chiudi il video Ragazzi Prima di tutto mettete like Sì Iscrivetevi al canale Sì Attevate la campanellina Sì Commentate Sì Andate a ascoltare Ski Mask Sì Su Seguitici su TikTok Andate a ascoltare Ski Mask Su Spotify No ragazzi Che di bene Sì